Nelle scorse ore Shiva è diventato padre e da dietro le sbarre il famoso trapper ha scritto una toccante lettera per suo figlio. Oggi è il giorno più bello della mia vita ma allo stesso tempo il più triste. È nato mio figlio ma non mi è stato permesso di essere presente al momento della sua nascita. Così si legge nell'attacco della lettera resa pubblica dal suo staff che l'ha condivisa sui social del musicista. Gli avvocati di Shiva ne avevano chiesto la scarcerazione e in subordine i domiciliari ma il giudice del riesame di Ancona non ha accolto le loro ragioni. Il figlio di Shiva è nato quindi senza la presenza del padre rimasto in cella a San Vittore scatenando sui social vari commenti con l'hashtag free Shiva. Il 24enne all'anagrafe Andrea Rigoni è sottoposto a misura cautelare perché accusato di aver partecipato ad una violenta rissa a San Benedetto dove si trovava lo scorso 30 agosto per un concerto. Una lite scoppiata in pieno centro per futili motivi tra il gruppo di Shiva e tre ragazzi del posto incontrati in strada e poi degenerata. Dalla ricostruzione degli inquirenti era stato utilizzato un coltello ed erano state causate a tre sanbenedettesi lesioni personali guaribili tra i 10 e i 35 giorni. In particolare proprio Shiva è ritenuto responsabile di aver tirato fuori la lama per colpire più volte un soggetto estraneo alla rissa avvenuta non distante dalla stazione di San Benedetto. Sul trapper milanese pesa poi un'accusa ancora più pesante quella di tentato omicidio per una sparatoria avvenuta lo scorso luglio davanti alla sua casa discografica. Per i fatti avvenuti in Riviera con l'artista sono indagate altre quattro persone facenti parte del suo entourage. Le attività di indagine dirette dalla procura di Ascoli Piceno sono state sviluppate dal commissariato di polizia attraverso l'esame dei sistemi di videosorveglianza, l'ascolto di numerose persone e controlli in relazione alla presenza e gli spostamenti delle cinque persone provenienti dalla Lombardia e poi arrestate.